Stefano hai conquistato la maglia rosa a un passo da casa, questa è una vittoria che vale il doppio Sì, beh, è un vittorio importante anche perché la squadra è effettivamente qua della zona per cui ci tenevo io, ci teneva anche tutta la società di questo ne sono ancora più felice Sai fare le tue emozioni nell'indossare questa maglia? La prima volta che non so la maglia rosa, è chiaro che i paragoni con i professionisti non si possono fare, è tutta un'altra cosa però nel nostro piccolo è comunque una notevole soddisfazione, è molto bella domani sarò onorato di portare questa maglia in corsa E' di Nicoletti, fascia 2 per Rosa Nicoletti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti